professori buonasera allora benvenuti alla puntata numero 7 7 8 non mi ricordo un attimo solo ricontrolliamo il numero della puntata penso che sia la 7 del mio canale youtube la fisica che ci piace dedicata alla didattica a distanza quindi come diventare un docente a distanza io sto programmando mano mano delle piccole lezioni dei piccoli tutorial che riguardano le varie app e piattaforme che stiamo state stiamo utilizzando per poter fare lezione con i nostri studenti e vi confermo che questa è la puntata numero 8 perché la 7 riguardava skype come utilizzare appunto come fare videochiamate con i propri studenti utilizzando skype oggi invece ci dedichiamo a la puntata numero 8 come utilizzare google hangout per fare appunto ho anche detto google meet per fare appunto videochiamate con i propri studenti strumento fondamentale professori perché è chiaro che la lezione cosiddetta asincrona è una cosa simpatica si manda una scheda lavoro come abbiamo parlato durante abbiamo detto durante la live si chiede agli studenti di lavorare ma una video lezione simula moltissimo quello che accade in classe quindi fondamentale praticare da questo punto di vista allora in particolare se vi siete persi le prime sette puntate o volete vederne qualcuna di queste magari non sapete come cercarle non c'è problema vi allego qui il link alla playlist come diventare un docente digitale nel quale nella quale trovate tutte le altre puntate un due tre ting ed un'altra cosa che vi vorrei allegare è una live la mia prima live la prima live che ho fatto con voi docenti eravate connessi quasi in 200 in cui abbiamo parlato abbiamo visto due tutorial quindi come realizzare una buona lezione asincrona e come quali sono gli elementi fondamentali durante una videochiamata queste cose io non le dirò oggi ma le ho dette in quella live quindi se vi siete persi quella live guardatela qua ping adesso possiamo andare avanti tranquillamente allora come utilizzare google hangout allora signori facile come al solito come abbiamo visto l'altra volta entriamo in google quindi dobbiamo andare in google accediamo con un nostro utente quello che stiamo utilizzando per le classi se non l'abbiamo fatto creiamoci un utente quindi un bla 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 chiocciolagmail.com la professoressa valeriarossi chiocciolagmail.com è quello che volete creiamolo se ce l'abbiamo entriamo ricordatevi fondamentale qui sopra ci sono le nuove i famosi nuove quadratini qui ci sono tutte le varie funzioni di google quelle importantissime per la scuola sono qua sotto documenti fogli hangout google classroom ne abbiamo già parlato lo trovate nella playlist allora clicchiamo su hangout lui che fa lui entra dentro la schermata della video della videoconferenza che è questa ciao vincenzo iniziamo bla 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 io ho dei contatti qua allora andiamo in videochiamata perché noi stamattina dobbiamo fare la nostra videolezione partiamo videochiamata vai tanto non succede niente lui ti apre un'altra pagina ti dice consenti di utilizzare la tua videocamera il tuo microfono sì consento perfetto lui adesso sta utilizzando la mia videocamera come vedete io sono ripre sono dentro ho la prima cosa che lui ti dice mi sta riprendendo c'è il microfono attivo lui mi dice devi invitare delle persone a questa video lezione allora attenzione hai due possibilità o inserisci l'email uno alla volta delle persone qui oppure utilizzi questo cioè clicchi qua e lui ti dice sotto link copiato negli appunti cioè lui ti copia un link che voi potete dare agli studenti per la video lezione semplicemente dovete incollare quel link dove lo potete incollare in google classroom se avete formato le classi virtuali con i ragazzi lo potete incollare nel whatsapp della classe se avete il whatsapp con la vostra classe lo potete incollare come messaggio instagram come messaggio telegram anche di un solo ragazzo di quella classe uno bello sveglio e lui lo manderà agli altri qual è la maniera più rigorosa il registro elettronico dovreste crearvi la lezione sul registro elettronico non so che registro utilizzate incollarlo la dice ma il registro elettronico in tilt in questi giorni va bene benissimo potete incollarlo in google classroom cioè è chiaro utilizzate una come si può dire una piattaforma la più ufficiale possibile se la scuola ha già autorizzato google classroom e quindi avete un account della scuola ancora meglio bene una volta fatto questo i ragazzi riceveranno il link e cominceranno a collegarsi quindi voi avrete le persone collegate che piano piano vi appariranno tutte le persone in videochiamata ditelo disattivare i microfoni allora che cosa potete fare subito intanto mentre voi parlate buongiorno 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 cioè praticamente le persone si staranno collegando vi sentiranno vi ascolteranno voi la prima cosa che dovete fare che questa cosa non ve la dice nessuno ma io ve la dico dite alle persone ragazzi buongiorno benvenuti disattivate il microfono ragazzi buongiorno benvenuti disattivate il microfono se volete comunicare qualcosa ragazzi cliccate sul simbolo della chat vi faccio vedere dov'è questo simbolo della chat vedete qua sotto questo simbolo piccolino questo il simbolo della chat no allora cliccano là si apre una chat potete scrivere allora io detto vocalmente buongiorno ragazzi virgola disattivate il microfono punto io ho scritto nella chat ha scritto disattivato potete correggere ho questo questa abitudine di usare il dettatore vocale ma voi potete tranquillamente scrivere bla 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 disattivate il microfono mando il messaggio arriva a loro loro nel frattempo buongiorno prof cominceranno a disattivare a collegarsi la chat è fondamentale perché la chat vi serve per poter parlare con i ragazzi e per poter avere delle risposte se le chiedete ma se io lo voglio far parlare gli chiedi di attivare il microfono ma sei tu che dirigi come un direttore d'orchestra la tua orchestra sei tu che decidi devi decidere chi parla vuoi interrogare ma fallo ma perché no ma decidi tu che altre funzioni allora esploriamo un po le funzioni abbiamo detto invita persone l'abbiamo visto qua vogliamo invitare altra gente vogliamo di nuovo prendere il codice eccetera eccetera di nuovo invita persone lui mi da di nuovo questa schermata di invita persone la vedi guarda qui in alto qui molto importante vedi questi tre puntini se clicchi qua c'è una funzione fighissima molto bella condividi schermo che vuol dire condividi schermo significa che tu ti apri un'altra pagina per esempio tu vuoi far vedere un pdf allora guardate vuoi far vedere un pdf che tu hai creato ok allora io adesso mi apro un pdf che ho usato con i miei studenti il libro dai apriamo il libro così diciamo che ho aperto questo pdf che poi alla fine il libro stessa costante ma io voglio doppiare il mio schermo cioè voglio che i ragazzi guardino il mio schermo addirittura voglio collegare un tablet un dispositivo e voglio che i ragazzi seguano mentre io scrivo una lavagna no accanto al mio viso che parla come devi fare fai da qua allora da qui in alto dove ci sono i tre puntini ve lo faccio vedere di nuovo clicchi e fai condividi condividi se fai condividi lui dice consenti allora guardate ora che cosa succede io vado a chiaramente ora sta andando in loop infinito io adesso chiudo così vedete guardate io ho nella schermata me che parlo e dall'altra parte vedete ho il mio pdf aperto quindi se io ingrandisco sul pdf giusto per farvi vedere un attimo io sto spiegando il solenoide allora ragazzi guardate il solenoide bla 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 eccolo qua il solenoide io muovo il cursore per spiegare loro la formula eccetera eccetera e loro nel loro schermo vedono qui me da questa parte e il solenoide da quest'altra e la spiegazione da quest'altra quindi il condividi schermo è una funzione importantissima perché non solo attiva la il tuo vi fa vedere il tuo viso ma fa vedere quello che stai facendo gli appunti che ti sei preparato e questa è un'altra funzione importante per interrompere sopra interrompi interrompi condivisione lui interrompe condivisione e torna di nuovo su te torna sugli studenti chiaramente qui saranno tutti gli studenti eccetera eccetera voi qua avete la chat potete attivarla anche da questa parte ma come vi ho detto la chat sta qua sotto potete disattivare il vostro microfono da qui sotto adesso il mio microfono dentro la videochiamata è disattivato potete disattivare la vostra camera qui sotto disattivata la mia camera e disattivate il mio microfono poi perché e signori è importante perché perché se voi date un compito da svolgere in quel momento siete intanto siete in videochiamata siete in videoconferenza avete bisogno all'improvviso di dover rispondere al telefono e quindi dovete disattivare l'audio perché non volete che la gente vi senta mentre parlate o addirittura avete bisogno di disattivare il video quindi avete assegnato un problema da fare sapete che i ragazzi in quel momento devono andare in attività devono lavorare e avete quei dieci minuti potete disattivare il microfono disattivare la telecamera e nessuno vedrà e sentirà quello che state facendo queste sono cose che sembrano scontate ma vi posso assicurare non lo sono proprio perché quando io faccio lezioni a scuola con i miei colleghi dico molto spesso doppiate l'ipad il tablet sullo schermo e volete cercare un'informazione attenzione voi state esponendo le vostre informazioni comunque alla merce di tutti quindi è importante proteggere le vostre informazioni o in quel momento per esempio disattivare la camera perché avete bisogno di fare qualcosa insomma come potete notare pochi elementi utili ce ne sono altri da utilizzare sì ma molto secondari questa è l'essenziale che vi serve per fare una lezione ci vediamo la prossima volta vi mando tanti baci buon lavoro a tutti